Questo è un momento in cui la Sicilia ha bisogno di riscoprire una grande capacità di solidarietà e una grande capacità di iniziativa anche sul piano nazionale. La nostra immagine è un'immagine sporcata da anni di sprechi, di clientele. Oggi siamo una Sicilia che non solo ha fatto tutti i propri compiti ma una Sicilia che ha buon diritto rivendica una tensione forte anche da parte del governo nazionale. Il PD cosa rivendica? Quale ruolo rivende? Io penso che il PD debba accompagnare questo sforzo della nostra regione e aiutarla a superare una fase difficile e scrivere un'altra pagina della storia siciliana. PD che sta sul territorio è un partito da costruire, forse ricostruire. Io penso che in questo fondamentale sia la partecipazione delle persone, la capacità di costruire un partito democratico non solo accogliente ma riconoscibile come partito del centro-sinistra, come partito del socialismo europeo, come partito della sinistra riformista. Quindi come partito che ha l'obiettivo, radicato in una storia ma anche con un futuro davanti, di affermare alcuni valori, alcune battaglie, alcune idee e di contribuire positivamente a una trasformazione della nostra regione.